Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzi, mi piace? Ma cosa vuol dire di sinistra, di sinistra? Non sono socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli aposti e semismi. No, 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 non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, sono i soldi. Non dirai che va la metida per capire l'ora. Che spettacolo. Ma scusci il capo, chi non fa, non fa la prise Lucifero, stringendo l'occhio. Beh, che dire? Uno spettacolo. Eh, sono quelle cose che... Questa è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più. momento video bellino dai lo scenario peccato che lo sentierino che la città è la città Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non lo fa Papis Non lo fa Oh bravo Papis Lo fa, sai perché? Perché mi hai visto No la scuola Oh fia, non lo fa E' un po' più E' un po' più Un po' più E' un po' più E' un po' più Sì, c'è un po' di mezzo. Sì, è vero. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì.